Doveva svolgersi il 13 gennaio in tutta Italia ed anche a Nicosia la terza edizione dell'evento La Notte Nazionale del Liceo Classico, una maratona di lettura, recitazioni teatrali, spettacoli musicali e di danza incontri con gli autori, mostre fotografiche, cortometraggi e cineforum che si svolge contemporaneamente in 388 licei Il maltempo dei giorni scorsi ha fatto slittare a Nicosia l'evento che si è svolto domenica 29 gennaio presso il Liceo Fratelli Testa di Nicosia Ricco come ogni anno il programma degli eventi a partire dalle ore 18 e fino alle 24 si sono svolte all'interno dell'istituto diverse performance che hanno coinvolto gli studenti e gli insegnanti del liceo Si è partiti con l'inaugurazione del classico taglio del nastro alla presenza del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli l'assessore all'istituzione Ivan Bonomo ed il dirigente scolastico dell'istituto Giusecchiavetta Quest'anno è stata allestita un'intera mostra fotografica dal titolo Fede Folclore in Sicilia composto da 84 scatti che rappresentano diverse feste religiose in tante parti della Sicilia Autori degli scatti sono Danilo Livera, Stefania Mazzara, Silvia Vicari, Giovanni Ribaudo, Pino Grasso, Massimo Calcagno, Salvatore Pitronaci Sebastiano Puccio, Andrea Lattuca, Enzo Bivona e Lello Fargione I diversi eventi sono svolti tra l'andone del liceo e l'auditorio ma allestito come un vero e proprio set teatrale Gli spettatori hanno potuto ascoltare la lettura di testi primo stasimo ad Antigone, caro liceo di Giulia San Filippo, alunna della Quinta B la celebrazione dei due anniversari 1917-2017 da Wilson a Trump 1957-2017 i trattati di Roma Father and Son, Eros e filosofia dal simposio di Platone Inno ad Eros, Ragioni e Cuore in Pascal tra le altre performance da ricordare la galleria dei celibri falsari Tiaso Saffico, La Passione Invincibile di Don in Virgilio e Ovidio Danza Bacchica, La lettura di poesie d'amore La rappresentazione teatrale del quinto canto dell'inferno di Dante Le argonautiche di Apollonio Rodio ed in chiusura Il Lamento di Danae Nell'androne oltre alla mostra fotografica si potevano ascoltare le performance delle band musicali, un'esposizione di cibi dell'antica Grecia La mostra Leros a tratti di matita Sono stati allestiti diversi tavoli curati dagli alunni dove era possibile degustare diverse specialità culinarie Coinvolta anche la palestra di liceo classico con una partita di pallavolo